direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 8 giugno il jackpot ha raggiunto la cifra di 165 milioni 685 mila 430 euro il più alto al mondo le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 69 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 66 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere secondo numero estratto è il numero 64 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 15 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 16 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 54 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 72 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly estratto di questa sera è il numero 44 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione il numero jolly 66 64 15 16 54 72 numero jolly 44 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in allotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar estratto di questa sera è il numero 62 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 69 in ordine crescente 15 16 54 64 66 72 numero jolly 44 numero superstar 62 l'estrazione di oggi sabato 8 giugno termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 165 milioni 600 mila euro il più alto al mondo è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 69 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super enalotto assegna 489.707 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 165 milioni 600 mila euro il più alto al mondo sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super enalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 167 milioni di euro vediamo adesso al dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 3 e vincono 84.012 euro ciascuno i 4 sono 624 e vincono 416 euro ciascuno i 3 sono 25.782 e vincono 30 euro ciascuno i 2 sono 424.662 e vincono 5 euro ciascuno e di questo concorso sono state assegnate ben 17.609 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella vince 41.622 euro i 3 stella sono 140 e vincono 3.009 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1.822 2 stella 10 euro agli 11.410 1 stella 5 euro ai 25.263 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 11 giugno giocheremo per un jackpot di 167 milioni di euro arrivederci